Buonasera a tutti. Quello di stasera è il primo di una serie di incontri che avranno una cadenza massile e che la nostra casa è invece da Mori Pizzali. Contando molto anche sulla preziosa conduzione di Davide Alessandro sul supporto tecnico di Piero Buongiorno, dedica a tematiche del profondo e più specificamente esistenziali. Il nostro intento è quello di ricercare una connessione tra il mondo interiore e quello dell'immaginazione, dei sogni, dei tormenti e il mondo esteriore, quello storico insomma. Dunque cercheremmo di gettare una sorta di ponte tra il dentro e il fuori, tra i temi di sempre e la complessità dell'oggi. Tutto questo seguendo il filo rosso che contraddistingue il nostro progetto editoriale. Cercheremo di avvalerci al contributo degli autori che danno corpo a questo progetto e quindi di poter contare su queste vecchie e nuove collaborazioni come intellettuali che contribuiranno a questo processo. Quella di stasera sarà un dialogo fra filosofia e psicoanalisi che vedrà coinvolti dalla stroppa che è, come tanti sanno, la vera anima della nostra casa editrice, paciente, riorosa guida ed editoriale, psicoanalista indiana e a sua volta passaggista ha al suo attivo sei titoli pubblicati e ultimo dei quali gli spostati. Lucio Saviani è il secondo, la seconda figura coinvolta stasera, quello attorno al quale ruota un po' meno la serata, che è filosofo saggista, dirige fra l'altro la nostra collana di narrazione della conoscenza ed è considerato una delle più qualificate voci del pensiero ermeneutico italiano. È autore di numerosi libri, l'ultimo l'esercizio della filosofia è da noi comunicato e comprende poi pure un poemetto di Pasquale Panella, partner, interlocutore, amico, tradizionale, performer che assieme a Lucio Saviani spesso è più importante sul figure di intellettuale dalle varie competenze. Alessandro è scrittore e saggista, analista e critico della contemporaneità, collaboro per esempio con Huffington Post e cultore di tematiche filosofiche e psicoanalitiche. Alessandro è autore di numerosi libri e saggi, tra cui due che recentemente hanno suscitato parecchio interesse e riguardano proprio la filosofia e psicoanalisi. Il primo è pubblicato da Mimesis, ha un sottotitolo, le parole e i soggetti. Il secondo è pubblicato da noi, Moretti Vitali, e ha come sottotitolo Diagnosi e critica dell'umano da Severino e Galiterra. Bene, a questo punto do la parola a Carla Stuttaro. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Allora, quello che farò, essendo che io non sono una filosofa, ma una psicoanalista, cercherò di dire qualcosa di trasversale rispetto a questo libro di Lucio Saviani che a me è molto piaciuto per varie ragioni, poi magari le dirò, e perché proprio questo pensiero di Lucio mi consente di intercettare dei punti di connessione con la psicoanalisi, cioè non con la psicoanalisi clinica evidentemente, ma con la filosofia che sottostà a certa psicoanalisi. E io sono sempre molto interessata alle connessioni fra linguaggi, a cercare i punti di convergenza all'interno della differenza. E quindi la prima osservazione che faccio riguarda proprio il linguaggio di Lucio Saviani, perché mi sembra proprio un linguaggio in cui si intrecciano l'eros e il logos. L'eros che è quella capacità che procede anche per balzi intuitivi, anche incurante dei balzi fra il tempo e lo spazio, più alla ricerca del senso, che vuole connettere sulla base delle connessioni di senso, e il logos che invece ha un andamento più mirato, più lineare, più in cerca dei rapporti tra causa e effetto. Ecco, mi sembra interessante che ci siano entrambi queste dimensioni nel libro, no? Perché effettivamente la scissione, diciamo così, fra l'eros e il logos è una delle grandi patologie, e si può dire del pensiero e non solo del pensiero, anche del nostro tempo, no? Che per varie ragioni che adesso non abbiamo il tempo di analizzare ha soprattutto valorizzato il logos, no? A scapito invece del corpo emozionale, diciamo del corpo dionisiaco, no? Ecco. Mentre nel libro di Lucio Saviani sono contemplate entrambe le cose in una cornice che ha una sua unità di stile, di timbro, inconfondibile. Dentro questa cornice ci sono i temi abbastanza, direi, classici di Lucio Saviani, che sono temi che appunto sono molto condivisibili col pensiero psicoanalitico. Allora, la soglia, il gioco, l'alterità, il limite e la trascendenza, il rapporto fra distanza e vicinanza, tanto per dire qualcuno dei più, insomma, diciamo generici, ma anche essenziali. Questi temi che Lucio Saviani argomenta e narra, perché appunto il suo linguaggio è anche narrativo, sono davvero gli stessi della psicoanalisi. La meta è proprio questo, è quello di, la meta del percorso, insomma, di conoscenza attorno al quale stiamo ragionando, è proprio quello di ritrovare le connessioni fra queste due dimensioni, sia della società, no? Della storia, sia anche individuali, no? I neuroscienziati parlerebbero di cervello destro e cervello sinistro, no? Va da sé, è ovvio, è intuitivo che un cervello per essere sano deve avere entrambe le parti, no? Sia la destra che la sinistra. Allora, mentre uno è deputato al pensiero logico, l'altro è deputato al pensiero intuitivo e immaginativo. ci vogliono entrambe, no? Ci vogliono entrambe. Quindi questo stile di scrittura, che è molto differenziata, ma al suo interno ha proprio questa tensione, almeno io ho colto questa tensione, no? In cerca, diciamo, di una riconnessione dei linguaggi, degli sguardi alla vita verso l'individuazione di una via di mezzo, di una terra di mezzo. e le parole per dirla, no? Per dirla questa terra di mezzo, no? Perché non è poi così scontato e così facile. C'è una critica nel libro di Lucio Saviani, una critica all'intellettualismo supponente, no? a quella supponenza intellettuale, io dico pseudo-intellettuale, che pensa di capire tutto attraverso un linguaggio solo astratto che non tiene conto, appunto, di cosa c'è nel mondo interiore, no? Ecco, c'è una critica a questo, no? E questa è anche la critica della psicoanalisi, anche la critica della psicoanalisi. Mi viene in mente, cito brevemente, un libretto di Musil sulla stupidità, si chiama proprio la stupidità, in cui dice che, appunto, la stupidità consiste proprio nell'aver scisso, no? Cioè, il sentimento, il cuore, dalla ragione, no? Secondo Musil, io lo condivido in pieno, questa è proprio una manifestazione di grande stupidità. Ecco, molta importanza viene data da Lucio Saviani all'immaginazione. L'immaginazione è anche uno dei temi chiave del pensiero psicoanalitico, soprattutto in unidiano, insomma, no? Senza immaginazione si rischia di rimanere impaludati nel contingente, no? Nella mera contingenza. L'immaginazione è quella capacità mentale, quel sovrappiù, che consente di dislocarsi, è uno sguardo, è una postura mentale, che consente di dislocarsi dalla mera contingenza per assumere un punto di vista, appunto, non troppo distante, ma neanche troppo vicino, che consente di vedere in un unico atto i due poli della vita, della vita individuale e collettiva, no? Ecco, senza immaginazione il rischio è quello di impaludarsi nella cronaca, nel crosaico, nel contingente, no? Mentre noi, e qui mi viene in mente una bella frase di Eugenio Borgna, siamo per la passione del possibile, no? L'immaginazione è anche questa, no? È la passione di un oltre del possibile, insomma, se no si rischia di cadere nel detto e ridetto, cioè nel pensiero senza anima. C'è un personaggio che Lucio Sabbiani scende, che a me piace, è molto simpatico, perché è una perfetta metafora, diciamo, dei due poli, delle due facce dell'immaginazione. È un personaggio, appunto, di immaginazione creato da Henry Rasp, si dice così, spero, che è stato poi ripreso da molti autori, da Adorno, ad esempio, e da tanti altri, proprio per la sua valenza metaforica e prospettica. E lui parla di un personaggio che è il barone di Munchausen, si dice così? Munchausen, ecco. Che è il barone di Munchausen, che è una figura veramente stupefacente, fantasmagorica, perché cosa fa questo personaggio? Esce dalla palude in cui lui si trova tirandosi per il codino dei capelli, e lui ha i capelli con un codino, si tira dal codino e esce così dalla palude, che è evidentemente un gesto assurdo, se lo guardiamo dal punto di vista del Logos, no? Va da sé che è un gesto folle. Però se lo guardiamo con uno sguardo simbolico, come a noi piace fare, possiamo anche dire qualche cosa invece di interessante, no? Che appunto da una condizione di ristagnazione in un pensiero trito e ritrito, si può uscire attivando i pensieri creativi. perché, diciamo, la testa è la sedia del cervello. I capelli, se fosse un sogno, si potrebbe interpretare così. I capelli sono emanazioni del pensiero, no? Per cui, facendo leva sui propri pensieri creativi, si può raggiungersi, si può elevare dalla palude, insomma, no? La psicoanalisi si è interessata di questo personaggio, non solo la psicoanalisi, perché è stato oggetto di, insomma, di tante interpretazioni, teatrali, cinematografiche e quant'altro, proprio perché ha un valore metaforico, no? La psicoanalisi, dicevo, si è interessata, ma soprattutto per mettere in evidenza gli effetti patologici dell'immaginazione. Cioè è nata addirittura un concetto, insomma, la sindrome di Munchausen, che sarebbe quella per cui certi pazienti si inventano dei malanni immaginari pur di avere l'attenzione dei medici, no? E quindi questo sarebbe l'aspetto fuorviante dell'immaginazione, no? Che non vedi pure la realtà, ti inventi qualche cosa per... Ecco, ma l'altra faccia di questo gesto invece fantasmagorico è proprio invece la creatività. perché se ci pensiamo, in fondo, tutta l'arte nasce da una capacità di andare oltre la realtà contingente e di trasfigurarla, no? Cioè il principio stesso dell'arte, della narrazione, anche chi ha scritto questo romanzo ha fatto leva non su qualche cosa di reale, ma sull'immaginazione, no? Scrivendo un romanzo trova già un modo per uscire, diciamo, dal... Ecco, quindi questo gesto assurdo e folle ha questa doppia valenza che è la doppia valenza dell'immaginazione che ti può far uscire proprio, no? Di testa, nel senso che se prendi la lettera la cosa esci di testa, sei folle. Se invece la leggi con uno sguardo culturale simbolico è una grande risorsa, insomma, no? Allora, è un gesto di ascesi. Tadiani citta Jankelevich, che è uno dei suoi maestri principali, direi no? È uno dei riferimenti principali del libro, assieme a Derrida, che dice è la nostra sovrannaturalità domestica, questa capacità di, no? Di andare oltre però in modo tale da mantenere un rapporto con la vita e con la dolce. Il... Si monta, scusate. Il bon po', la chiamata trascendenza immanente. Allora, mentre si esplora l'oltre, il trascendente, si esplora anche, diciamo, il nascosto, il sotterraneo, cioè ciò che non appare, no? Questa cosa della psicoanalisi è stata chiamata la memoria implicita, no? Ci sono delle cose dentro di noi che non sappiamo, non sappiamo a livello cognitivo, ma che si sono stratificate e che vanno a formare la memoria implicita. Quindi è un doppio gesto di trasgressione dal contingente, no? Vai sopra e vai sotto, no? Per trovare quel giusto distacco. Tra l'altro, appunto, la ricerca di una via di mezzo è proprio fondamentale, perché al di sotto di qualsiasi sofferenza c'è sempre la separazione, c'è sempre l'ascissione. per cui ci posso cercare la via di mezzo tra il sopra e il sotto, il dentro e il fuori è proprio fondamentale. Allora, mentre si raggiunge quindi una dimensione così che un po' trascende, in Ciosaliano ci fa anche notare una cosa assolutamente importantissima, che si raggiunge anche un po' paradossalmente il senso del limite, no? Mentre si va oltre, si raggiunge anche il senso del limite. Cioè nel momento in cui la psiche riesce a rappresentarsi la totalità, sente il tutto, sente anche la sua misura, la misura piccola, umana, umanissima dell'io, no? Quindi è tutto un po' paradossale, no? Però sono i grandi temi della filosofia come sono i grandi temi della psicoanasi. Se vai oltre lo scontato, vai sì nella trascendente, ma hai anche il senso del limite, no? Cioè di quanto l'io è piccola cosa. Un'ultima cosa, poi chiudo. L'origine della filosofia, ci dice Lucio Fuliani, da cosa nasce la filosofia? Seguendo evidentemente un pensiero super, come dire, fondato negli autori che cita e nel suo stesso pensiero, nasce dal verbo, io lo leggo così come lo vedo, poi magari non è giusto, taumazein, è giusto? Ecco, che non è lo stupore e la meraviglia come in fondo si è sempre pensato, ovvero non solo lo stupore e la meraviglia, perché questo verbo che parebbe all'origine della filosofia in realtà ha un altro significato che è trauma, tauma. Per cui l'attenzione, l'attitudine a pensare è proprio, nasce dal trauma, dal dolore, no? Nasce proprio dalla scissione. L'interrogazione filosofica nasce da questo senso di separazione di… Ecco, da qui nasce l'interrogazione filosofica sul senso della vita, che non è un'interrogazione che ha delle risposte definitive, no? Quando? Mai! E che assolutamente si discostano le risposte sempre approssimative dal pensiero convenzionale. Perché qui, come dice Merlugo Ponti, che è citato da Lucio Sardiani, la filosofia ha a noia il già costituito. E quindi qui si entra proprio nella sfera della creatività. E questo mi consente di dire l'ultimissima cosa, e cioè che questo modo di pensare, non assertivo, aperto alle contraddizioni, all'ignoto che ama anche l'aspetto erotico, questo modo di pensare si apre quasi per un'intrinseca logica, nel senso di energia, si apre alla bellezza, allo charm, al poetico, appunto al trascendente. E quindi proprio si apre per intima necessità a questo. L'ultima parte del libro sull'esercizio della filosofia, infatti, è dedicata a un poema bello di Pasquale Panella, che è un poema poetico, che a me in un certo senso sembra che tra l'argomentazione, questo tipo di argomentazione, e la poesia, anche quella appunto evocata da Panella, che è su Orfeo, c'è quasi una linea di continuità, questo tipo di pensiero porta a quello che Ilman chiamerebbe il fondo poetico della mente, quasi per una naturale inclinazione. Va bene, io mi fermo qua, grazie, e adesso gli diamo la parola a Davide D'Alessandro. Grazie, Carla, buonasera e ben trovati. Oltre ad aver letto con estrema attenzione il libro di Lucio Saviani e aver ascoltato con altrettanta attenzione Carla Stroppa, prima di sollecitare l'autore volevo aggiungere qualche particolare. Intanto soffermandomi sul sottotitolo, molte volte i sottotitoli non accompagnano soltanto il titolo, ma finiscono i sottotitoli per essere più preziosi del titolo stesso, e in questo caso lo è. Mi verrebbe da dire è persino più bello del titolo. Il titolo è l'esercizio della filosofia. Il sottotitolo è per una vitale incertezza. Attenzione a questi termini, vitale incertezza. L'incertezza è vitale proprio in un contesto, in un tempo in cui tutti sembrano rincorrere il contrario dell'incertezza, cioè il certo, lo stabile, il sicuro. Mentre poi si scopre, anche leggendo questi libri, che soltanto chi è pericolante, soltanto chi è in pericolo, finisce per essere sempre acceso. Chi invece non si lascia prendere e si difende dal pericolo, fatalmente finisce per spegnersi, per addormentarsi. Ha avuto la bontà, Enrico Moretti, di citare all'inizio gli ultimi due libri da me curati e incentrati su questo binomio, su questi due termini, filosofia e psicoanalisi, che ho ritrovato inevitabilmente dentro il libro di Saviani, sempre legate queste due discipline dall'immaginazione, altro termine importantissimo, ricordato e per certi aspetti coniugato da Carla Stroppa. E qualche mese fa, facendo uno di questi webinar con Umberto Calimberti, lui ci ricordava che tra filosofia e psicoanalisi dovremmo quotidianamente inseguire una sorta di santa alleanza e fare in modo che queste due discipline, restando separate l'una dall'altra in modo da evitare confusione, finiscano però sempre col dialogare e con l'intersecarsi vicendevolmente l'una con l'altra. Perché dico facendole restare separate? Perché basta aprire qualche libro, basta partecipare a qualche conferenza del nostro tempo per capire come ci sono troppi filosofi che fanno gli psicoanalisti e troppi psicoanalisti che fanno i filosofi. Mentre invece l'ideale è passare attraverso questa santa alleanza, frequentare tutte e due le discipline, mettere a conto pronto da una parte i filosofi... Sì, sì. Perfetto, allora vado avanti. Dicevo da una parte i filosofi, dall'altra gli psicoanalisti, per vedere se attraverso questo dialogo possa venire fuori quello che io definisco un nuovo atto creativo, attraverso questo dialogo permanente tra filosofia e psicoanalisi, cercare di far emergere qualcosa che non sia soltanto filosofia, che non sia soltanto psicoanalisi. Forse mi verrebbe da dire, e qui il libro di Lucio Saviani aiuta a rimettere le cose a posto, forse mi verrebbe da dire, c'è un po' troppa filosofia, c'è un po' troppa psicoanalisi, mentre invece bisognerebbe dell'una e dell'altra disciplina andare a praticare, a trovare la giusta misura. C'è un esergo di Nietzsche che Saviani mette nel capitolo, in uno dei capitoli del libro, preso dall'Aurora, che dice così «E saggezza, saggezza di vita, somministrarsi per lungo tempo la salute stessa solo a piccole dosi». Ecco, non lo prenderei come stesso facciamo con Nietzsche come un grandioso, o soltanto come un grandioso paradosso, mi limiterei però, con molta modestia, a sostituire la parola salute con filosofia e con psicoanalisi, per cui direi che è saggezza, saggezza di vita somministrarsi per lungo tempo, è la filosofia, è la psicoanalisi stessa, solo a piccole dosi, ma da queste piccole dosi cercare di suggere il nettare che è possibile suggere da un libro come quello di Saviani. Soprattutto, qui lo voglio dire e ribadire, quando Saviani fa ricorso a diversi filosofi, ma almeno a due filosofi, a me molto cari, il primo è stato già citato da Carla Stroffa, e cioè Jankelewicz, il secondo è Gianni Vattimo, soprattutto per quanto riguarda la parte riferita, lo sviluppo del tema sul mito. Vedete, come si fa a dire se Lucio Saviani abbia scritto o meno un libro interessante? Beh, mi verrebbe da dire, chi ha letto, chi ha assimilato l'opera di Jankelewicz, non può non scrivere libri interessanti. Dico questo perché con Jankelewicz noi ci troviamo di fronte alla consapevolezza di un limite. Leggere Jankelewicz è sempre una splendida avventura, non è mai noioso, è sempre quindi estremamente serio leggere un autore di questo tipo, un autore potente. Vorrei citare soltanto L'avventura, la noia e la serietà, che è un libro del 1963, già pubblicato da Marietti nel 91 e poi riproposto ulteriormente. Vedete, è proprio con Jankelewicz che ha dietro la sua opera e dentro la sua opera un altro strepitoso autore come Georg Simmel, che c'è questa propensione a interrogare i frammenti della realtà che ci circonda, proprio per cercare di cogliere in questi frammenti, attenzione ai frammenti, alle particelle, la cifra della tessitura generale delle cose. E allora attraverso l'avventura, la noia e la serietà è possibile scrutare nel segreto delle cose, nell'intimo formarsi di ogni singola vita, ed è possibile, ecco, se vogliamo farsela una vita, essendo, eh, qui voglio citare, tra virgolette, essendo serio, non prendere tutto sul segreto, eh, lavorando quindi come fanno gli analisti, come fa, con ogni probabilità, anzi lo do per certo, Carlo Astroppa nel suo studio, sui margini, sui bordi, perché lì, spesso, si annida il centro, mentre noi cerchiamo di andare sempre, eh, sbagliando, a caccia del centro, il centro, vogliamo andare subito al centro, e invece per arrivare al centro, bisogna frequentare i margini, i bordi, quindi se un autore come Jan Kelewicz ci aiuta a recuperare la purezza di un pensiero libero dai condizionamenti, ecco, lontano, scevro dal banale supposto sapere, prima Carla Astroppa diceva quanti, eh, fanno a gara nel ritenere di sapere, di aver capito tutto, ecco, invece Jan Kelewicz e l'incontro con la pagina bianca che deve essere scritta giorno per giorno, eh, pensate soltanto al dialogo interiore, perenne, che questo autore ha fatto con la morte e per comprendere che cos'è la vita, no? ehm, allora, eh, mi verrebbe da dire, leggendo Jan Kelewicz, ho un autore come Saviani, che in questo libro, per, per recuperare alcuni aspetti di Jan Kelewicz e metterli al centro del libro, lo utilizza, ne fa utilizzo, ecco, allora, mi verrebbe da dire, con un autore di questo tipo, altro che 50 sfumature di grigio, tanto per, per citare qualcosa di, di banale e di contemporaneo, ma mille, mille, diecimila sfumature di grigio, però in quel caso, leggendo Jan Kelewicz, noi comprendiamo il mondo, comprendiamo la vita, oppure, eh, ci illudiamo di averli, di averli compresi, ecco perché lo Jan Kelewicz che ho ritrovato nel libro di Saviani e che finisce per esaltare il libro di Saviani, perché quando un autore è umile, quando un autore è consapevole, cosa fa? Riconosce di aver frequentato i giganti del pensiero, riconosce di essere salito sulle spalle di questi giganti e riconosce soprattutto di aver frequentato la consapevolezza di un limite, eh? Ecco perché ho ritrovato la trasfigurazione di Jan Kelewicz dentro questo libro, perché questo è un libro che mi ha aiutato a fare, ma mi verrebbe da dire a rifare, a riprendere i conticini con questo limite, eh? Con questo limite che siamo tutti quanti noi e che ci troviamo davanti. prima di lanciare una sollecitazione a Saviani volevo soltanto ricordare, qui ha fatto benissimo Carla Stroppa nel citare un passo del libro di Saviani, vorrei soltanto ricordare le volte in cui mi è capitato di colloquiare con Emanuele Severino, il grande filosofo scomparso ormai circa due anni fa e ogni volta Severino non so se dimenticando di avermelo già detto la volta precedente oppure perché lui riteneva che specificare per bene questo tema fosse poi l'essenza di tutto l'esercizio filosofico lui in maniera ripetitiva guardate lo trovate anche andando su Youtube lui torna spesso su questo termine fauma perché perché lui era voglio usare non a caso ecco questa riproposizione del termine lui si meravigliava che fior di filosofi italiani per parlare della filosofia per parlare di questo zauma facessero riferimento alla meraviglia allo stupore e a dire oh con questo atteggiamento adesso adesso facciamo un pensiero filosofico adesso su questa cosa cerchiamo di tirar fuori un ragionamento filosofico perché siamo stati scatenati in questo dalla meraviglia dallo stupore no no ribadiva ribadiva Severino perché se no non capiamo qual è la materia di cui ci stiamo occupando l'origine di questo termine è paura terrore e tutto questo che ci scatena poi l'interesse per ciò che ci agita che ci agita quotidianamente e che cerca di invitarci alla riflessione alla meditazione all'esercizio filosofico citando il titolo del libro di Saviani e poi l'ultimo riferimento che introduce alla sollecitazione per l'autore è questo richiamo sempre per sempre alla necessità al bisogno della creatività e al richiamo alla poesia così come fa anche questo libro perché grazie a Panella perché il poeta non dimentichiamolo mai ha la forza di precederci sempre il poeta lo sa già lo sa prima di noi perché direbbe Carla Stroppa perché ancora prima di creare ha saputo evidentemente immaginare quindi io sconvolgendo forse un po' i piani e le carte vorrei cominciare con Saviani che vedo che beve pur non avendo ancora parlato quindi adesso tocca a noi invece bere e a lui parlare visto che abbiamo incentrato questi primi ragionamenti su queste due discipline filosofie e psicanalisi a lui invece chiedo la ragione per cui è necessario infilare o far vivere insieme a queste due discipline anche la parola poesia grazie 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 anche per l'intervento di Carla all'inizio io scusate sto bevendo un po' spesso perché ho un problema proprio di gola di tosse insomma allora perché aggiungere anche poesia a filosofia e psicanalisi due termini del nostro dialogo aviverei subito vorrei prima insomma accennare ad alcune questioni io ho preso un po' di appunti durante i vostri interventi dei quali vi ringrazio tantissimo perché il libro si è andato arricchendo proprio della vostra analisi della vostra lettura dei vostri spunti e anche di alcune cose che alcune io non le avevo nemmeno notate insomma non ci avevo fatto molto caso altre invece sì per esempio mi ha fatto molto piacere diciamo l'evidenza con cui sia è emersa l'opera la figura il pensiero di Bianchelevic in questo in questo libro lo dico anche nella nella premessa Bianchelevic è presente insomma in quasi tutte le pagine del libro anche perché il libro è stato scritto nello stesso periodo in cui è stato pubblicato il libro filosofia prima di Bianchelevic è un libro di Bianchelevic che ho lavorato per una ventina d'anni dai primi anni 90 e alla fine insomma siamo riusciti perché perché l'abbiamo tradotto insieme io e Francesco Fogliotti che è presente stasera con noi e ho avuto modo poi anche di accompagnare questo libro filosofia prima con una introduzione è un libro io lo considero lo considero il libro l'opera principale di Bianchelevic è un libro del 54 non era mai stato tradotto in Italia e lo stesso Bianchelevic ebbe a definirlo la mia metafisica e quindi una un'opera che è molto presente vero in questo libro nell'esercizio della filosofia direi anche anche un po' nella struttura del libro c'è un continuo un continuo ritornare su dei temi come se fosse una una variazione sul tema il tema il tema del libro è appunto la filosofia come esercizio ma ci si ritorna modulando questo questo tema in diversi toni insomma in diversi modi già a partire anche dai titoli dei capitoli mi ha fatto anche molto piacere che sia emersa anche la figura di Gianni Vattimo per quale sono amico da tantissimi anni da una quarantina d'anni e a me piace pensare anche questo libro come una sorta di dialogo con quella particolarissima traduzione modulazione operata da Vattimo nei confronti dell'ermenetica di Gagamera e anche l'attensione di Aidele i suoi punti di riferimento gli autori che Vattimo ha fatto conoscere in Italia ha tradotto e che all'epoca nei primi anni 80 fu definito con un nome che poteva molto discutere pensiero debole ma poi questa definizione è uscita fuori dalle polemiche dalle discussioni spesso anche poco approfondite che si svoltero in quegli anni e secondo me ha guadagnato poi nel tempo quella sua carica quella sua proposta teorica che era quella di pensare l'essere in una concezione interpretativa e quindi offrire per quegli anni ma anche per gli anni successivi una particolare possibile lettura dell'erlenità e di quello che molto troppo spesso viene anche un po' citato sproposito diciamo di dialogo anche nel libro spesso si parla di questo abuso del termine dialogo bene allora per quanto riguarda la poesia si fa tantissimo un piacere che sia stato anche richiamata la presenza di Pasquale Panella nel libro e il suo poemetto Orfeo un cantante è parte integrante del discorso che facciamo nel libro non è una coda non è una giunta non è un avvelimento non è un appendice è proprio nello spirito in cui Alessandro si invitava a pensare è proprio un incrociarsi di due espressioni che sono ambedue dimensioni del pensare certo in una espressione che è differente poesia io oltre all'immaginazione di cui parlavamo poco fa io parlerei anche di entusiasmo ma nel senso platonico della parola quando nell'odione ma anche in altri dialoghi Platone parla parla dei poeti e ne parla come persone invasate no l'invasamento poetico l'entusiasmo cioè l'essere abitati da un dio è un dio che parla attraverso il libro il poeta sa sa perché già lo sa come diceva prima l'Alessandro ma sa di poter sapere fino a un certo punto quello che fa perché l'iniziativa l'iniziativa non è mai umana il poeta il poeta è ispirato questa è una tradizione che poi attraverso Plotino lo sappiamo arrivare a Finanscelli l'ispirazione l'avvio l'iniziativa del fare poetico artistico viene da un'altra dimensione che non è quella umana ma al quale il poeta corrisponde 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 in un linguaggio che appunto sappiamo non essere né divino né umano è quella terra di mezzo di cui anche Carla prima ci parlava e quindi andrà interpretato e quindi ci sarà bisogno di interpretazione come 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 nel sesto canto dell'eneide supprica prega la sbilla e dice eh alle alle foglie i tuoi risponsi non non dare no che non vogliono confuse in preda al vento cioè le l'espressione poetica non appartenendo alla alla dimensione quotidiana del linguaggio umano della anche banale quotidiana comunicazione conversazione e però non appartenendo nemmeno totalmente la dimensione divina e sarà un linguaggio che andrà andrà interpretato e andrà eh ci sarà bisogno di interpreti Hermes a me ha fatto piacere che eh Callastropa abbia all'inizio eh evocato questa questa coppia Eros e Logos perché Eros in fondo ha eh condivide con Hermes il suo essere medium il suo essere interprete si fa interprete no? mette in comunicazione la sfera del divino e la sfera dell'umano questo discorso nel libro eh viene viene affrontato nell'ultima parte quando appunto io ricordo un po' nei primi anni novanta le diverse occasioni in cui con altri eh filosofi amici avemmo occasione di ragionare sul sul rapporto tra mito e Logos tra mito e filosofia e appunto come prima d'Alessandro ricordava trovo in quelle pagine che io riprendo quella l'impostazione che a quegli incontri vede vede eh Gianni Dantino ecco ma magari mi fermerei tu lì e poi potremmo tornare anche a tutti il sottotitolo del libro Davide ah se debbo continuare io lo faccio volentieri no 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 nel senso se debbo se debbo prima di te trovare un'altra un'altra sollecitazione la farei restando proprio su Gianni Vattimo perché prima facendomi prendere da Jankelevic avevo soltanto citato Vattimo però è chiaro ho fatto il riferimento al mito per come lo tratta Saviani però è chiaro che il tema del pensiero debole che egli elaborò tanti anni fa insieme a Peraldo Rovatti è un tema è un tema che lo stesso Rovatti reputa ancora oggi utilissimo da scandagliare perché non smette mai di dire quello che ha da dirci però ecco mi piacerebbe capire da Saviani se anche le forme che hanno dato vita a questo pensiero debole lo hanno fondamentalmente aiutato a scrivere un libro di questo tipo se non ci sia anche il pensiero debole dentro questo libro nella matrice di questo libro Sì c'è prima ho cercato di anticipare questo discorso sul pensiero debole con lo stesso Rovatti ma anche con Peraldo Rovatti Ferraris un po' diciamo il primo Ferraris anche un po' più interno al pensiero debole sì ho più volte siamo più volte confrontati mi ricordo nei primi anni 80 l'attimo soleva definirmi l'uomo di Napoli del pensiero debole perché all'epoca appunto c'era io all'università di Napoli e il pensiero debole aveva un po' dei centri in Italia però ancora non contemplavano Napoli più volte più volte ci siamo confrontati su quella proposta teorica e sì ho seguito anche i lavori di Rovatti più recenti sulla inattualità o attualità del pensiero debole e anche sul pensiero riluttante lui stesso Rovatti parla di una possibile riattualizzazione di quella proposta teorica che troppo spesso è stata un po' confusa con postmoderno con ermeneutica ma non erano affatto sovrapponibili e allora sì quella quella idea cioè di un pensiero che innanzitutto facesse i conti con la con la diciamo con con la società della comunicazione generalizzata facesse i conti con la fine dei grandi racconti facesse i conti con l'emergere della questione della narrazione della ripresa del mito e facesse i conti anche seriamente con il portato sconcertante del pensiero di Nietzsche ecco allora io credo che anche in questo libro l'esercizio della filosofia quella attenzione a questi temi sia presente ancorché accompagnata appunto da altre da altre istanze da altri autori appunto come anche anche come Pierre Hadot con il suo lavoro sulla filosofia come modo di vivere come dice e scrive Pierre Hadot il suo studio della filosofia antica e delle scuole elenistiche in particolare come esercizi spirituali come una filosofia non avulsa non separata dall'esistenza intesa anche come vita quotidiana ecco allora io direi la discussione che negli anni nei decenni c'è stata intorno al pensiero d'Evole insieme a Pierre Hadot insieme a Jankelewicz insieme all'ermeneutica che poi diciamo è la tradizione da cui provengo ecco questo libro cercando di annunciarlo anche nel titolo questo libro cerca di leggere alcune questioni che a volte hanno coinciso proprio con le questioni della pandemia il libro è stato scritto proprio nel primo periodo della pandemia e i titoli in certezza distanza esperienza convalescenza e risentono naturalmente in modo evidente anche del periodo in cui è stato scritto il libro noi e con quest'altra sollecitazione vorrei chiamare in causa non solo Saviani ma anche Carla Stroppa in modo da far vivere anche durante questo confronto la filosofia e la psicoanalisi noi sappiamo che riusciamo a cogliere la luce attraverso il buio e viceversa potremmo dire la stessa cosa del silenzio e della parola apprezziamo il silenzio perché esiste la parola ora ci sono due passi di questo libro che vorrei porre all'attenzione delle due persone che ho citato prima a pagina 70 e a pagina 71 perché da entrambi vorrei una riflessione per i loro ambiti di studio e lavorativi sia sulla parola sia sul silenzio a pagina 70 scrive Saviani il silenzio non è la semplice mancanza di parole di suoni o rumori né la pausa tra una parola e l'altra questi sono i silenzi il silenzio vive negli strati più profondi della comunicazione con una forza comunicativa misteriosa e radicale quando si parla del silenzio si intende altro altro scritto in corsivo parla del silenzio Goethe quando nel Faust dice la parola muore già sotto la penna così come Mayakovsky io sono crocifisso sulla pagina con i chiodi delle parole e poi a pagina 71 la filosofia deve rendere il testo del mondo il suo non detto esprimere il rapporto tra i significati delle cose e il silenzio stesso la filosofia come desiderio amore mancanza ricerca del senso e dunque ascolto del silenzio azzeramento delle certezze quotidiane e neutralizzazione dei significati già dati vorrei chiedere in aggiunta ai due beh così parlando e così scrivendo non stiamo parlando e scrivendo e della filosofia e della psicoanalisi cominciamo con Saviani sì 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 grazie grazie di questa del questo suggerimento di letture e anche della della domanda sicuramente anche perché questo il tema del silenzio si dà la possibilità di riconduzzi anche un po' a quello che prima stavamo accennando cioè l'origine e la dimensione da cui proviene il nostro esprimerci le nostre parole e anche lei stesso scriveva che la musica è fatta di silenzio la musica comincia e termina nel silenzio ed è continuamente attraversata dal silenzio dalle pause senza il silenzio la musica non sarebbe udibile questo discorso di anche le dice noi potremmo ripeterlo anche per quanto riguarda il rapporto tra silenzio e parola la parola proviene dal silenzio e al silenzio si destina e le parole sono attraversate dal silenzio è il silenzio che le rende comprensibili insomma quindi questa dimensione ulteriore ci rimanda a quella dimensione ulteriore che è l'origine della nostra attività di pensiero e di espressione prima l'abbiamo attribuita al poeta ma nelle ultime parole che sono state lette adesso quelle parole sono di melloponti alcune riprese da melloponti altre sono melloponti cioè la melloponti in questi termini invitava a pensare la filosofia la filosofia deve tradurre dal silenzio deve tradurre in parole quel senso silenzioso cioè quel senso che è un grumo talmente denso che attende di essere sciolto in parole Heidegger lo chiamava la fonte dei nomi Heidegger melloponti lo chiamerà il grembo delle cose il silenzio è quel grembo da cui provengono le parole provengono ma non spontaneamente non fluiscono l'opera maieutica del poeta dell'artista e per melloponti anche del filoso l'opera maieutica consiste nel tirar fuori dal silenzio dal mondo del senso i significati e le parole quindi melloponti diceva l'arte ma anche la filosofia non crea traduce cioè riporta riporta indietro fa uscire fa emergere da quella dimensione profonda porta alla luce le parole e qui è vero sono d'accordissimo questo discorso ha molto a che fare con con la pratica psicoanalitica e con la teoria psicoanalitica però questo credo che sia molto meglio ascoltare Carla dunque intanto voglio dire che le parole che Davide ha citato sono le stesse che avevo sottolineato io e questo ha un po' perché e poi certo il silenzio è una parte integrante dell'incontro l'incontro psicoanalitico e il silenzio come tutti i fenomeni del resto ha anche su due facce perché c'è un silenzio premio denso un silenzio in cui percepisci una densità di significati che appunto premono per diventare parola per diventare gesto e che magari non riescono e non riescono in funzione dei traumi ecco lì l'origine della filosofia no magari c'è qualcosa che emerge come densità nel colloquio nell'incontro psicoanalitico ma che non è detto che riesca a esprimersi in parola quindi quello di trovare le parole per dare significato al silenzio è un punto di arrivo se le cose vanno bene c'è un silenzio premio insomma e poi però